Allora, io ti devo chiedere, perché io ho sentito il tuo vocale, però non voglio pubblicare il tuo vocale, voglio che me lo dici. Come va il biovital? Da Dio. Cioè? Cioè che non faccio più peso, non compro più l'acqua, va... E per il corpo? È più leggera, riesco a berne di più rispetto a prima, tutta un'altra storia. Senti che ti depura veramente. Certo, e poi non ti appesantisce, perché io quando prima bevo l'acqua mi rimaneva sullo stomaco, con questa qui non va più leggera. Sì, è una cosina. E in più, il fatto di non comprare le bottiglie... Beh, è una pazza, già quella pagava già tutto, il fatto che poi soprattutto con questi caldi qui, che consumi un botto d'acqua in caldo, per andare tutti i giorni ad acqua o per l'acqua, mi ha risolto il problema. Ma proprio più leggera hai notato? Sì, sì. E io adesso quando ho fatto l'intervento me ne sono accorto subito. Perché non potevi bere molta acqua? Per esempio, se bevo molta acqua dopo non riesco neanche più a mangiare. Con quella riesco a bere e mangiare. Cina? Ah. Grazie. Grazie.